7 febbraio 1992 Nella cittadina olandese di Maastricht viene firmato il Trattato sull'Unione Europea. Il documento contiene i tre pilastri su cui si fonda la nuova Europa. La comunità europea, la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Con il Trattato di Maastricht entrato in vigore il 1 novembre 1993, la comunità economica europea cessa di esistere per lasciare il posto all'Unione Europea.